Bentornati a questo corso di filosofia online su YouTube. Siamo sempre all'interno della querelle fra razionalisti e impidisti, siamo nel XVII secolo e stiamo guardando insieme il pensiero di Thomas Hobbes. Allora, la domanda a cui tentiamo di rispondere in questo contributo video è il materialismo si può fare a meno dell'animo, ovviamente ci risponde Hobbes. Ora, c'è un'impossibilità della ragione di conoscere ciò che non ha un corpo. Su questo Hobbes è molto chiaro, perché riducendo ogni cosa ai concetti di corpo e movimento, anche il pensiero è un movimento di parti organiche del corpo, Hobbes formula una teoria di totale materialismo, corporeismo, per cui tutto ciò che è stato generato, cioè causato, ciò di cui possediamo in qualche maniera la conoscenza, deve avere necessariamente un corpo, deve essere materiale, deve avere una materia. Tutto ciò che non possiede un corpo, che quindi non è materia, non può essere ricondotto dalla ragione alle sue categorie, quindi non può essere pensato, e quindi è incomprensibile, totalmente incomprensibile. Ciò che non ha corpo non può essere causato, non può essere generato, quindi non ha causa, quindi non può essere compreso, sfugge al pensiero umano. E noi ricordiamo, come ci ha detto, ci ha insegnato Hobbes, che la filosofia è conoscenza della generazione delle cose, cioè come qualcosa è stato prodotto. Ora, la posizione di Hobbes è per certi versi simile a quella di Cartesio, perché entrambi ritengono che tutta la natura possa essere spiegata in maniera materialistica, cioè dominata da un rigido e inflessibile determinismo. Questo è quello anche ovviamente che pensava Galileo nel caso di Hobbes. C'è però appunto una qualifica precisa della sua filosofia, cioè di meccanicismo determinista, perché Hobbes spiega in termini rigorosamente meccanici in quanto movimento locale dei corpi, di un corpo che si sposta nello spazio e nel tempo, e spiega in termini rigorosamente meccanici tutti gli aspetti della realtà, anche la morale è meccanica, anche la fisica è meccanica, anche la politica, anche la psicologia, non intesa ovviamente in senso novecentesco, ma come sensazione e pensiero. C'è però una grandissima differenza con Cartesio. Cartesio poneva accanto alla materia, e l'abbiamo visto, andate a rivedere i nostri video su Cartesio, poneva accanto alla materia, mossa meccanicamente da leggi determinate nel cui ambito non esiste libertà ma solo necessità, poneva altre due sostanze, l'anima, la sede del pensiero umano e Dio. Hobbes al contrario è un riduzionista, se Cartesio è un dualista, per certi versi è anche pluralista, per Hobbes invece è un monista, perché proprio in virtù della sua teoria nominalista, che abbiamo precedentemente spiegato, per Hobbes le cose non succedono, non esistono in sé, ma diamo alle cose dei nomi per convenzioni, per abitudini, in questo caso Hobbes ha una visione diversa anche degli animali rispetto a Cartesio, per Cartesio gli animali erano degli automi, dei robot di rese extensa, invece per Hobbes anche il cane pensa, allora quando sente la voce del padrone che lo chiama a mangiare, una voce suadente e contenta, oppure il cane sente se il padrone è arrabbiato e quindi collega delle idee, quindi anche gli animali pensano, però Hobbes esclude l'esistenza di un mondo spirituale che sia irriducibile a quello materiale. Non esiste un iperuraneo, non esiste un sopracielo. Aristotelico, la differenza fra il mondo lunare e sublunare deve essere abbandonata appunto con Cartesio e col passato. Per comprendere questa decisiva differenza fra Hobbes e Cartesio si può considerare l'obiezione appunto che Hobbes fece a Cartesio. Per il primo, cioè l'espressione penso, quindi sono un'anima che pensa, è equivalente a passeggio, quindi sono una passeggiata. Il pensiero è una facoltà umana, ma l'essere umano non può essere ridotto, caro Cartesio, al solo pensiero. Inoltre l'espressione sostanza incorporea per Hobbes è incomprensibile, la contraddizione in termini. Non può esistere una sostanza, come abbiamo già detto all'inizio del contributo video, non può esistere una sostanza che non abbia un corpo. Quindi, caro Cartesio, non c'è nessuna necessità di una sostanza immateriale, come appunto la res cogitans. L'essere umano non fa dunque eccezione, ci dice Hobbes. Tutta la conoscenza umana si basa ancora una volta su corpi in movimento, movimento locale dei corpi, per Hobbes. Dall'interazione fra l'oggetto e gli organi di senso si genera la percezione, che è un processo puramente materiale, fisico. Da Galileo Hobbes recupera anche la celebre divisione fra qualità primaria e qualità secondaria. Ne avevamo parlato, quando abbiamo parlato di Galileo, è una differenza importantissima, perché Galileo in quel momento si stava affrancando definitivamente dalla fisica aristotelica, dalla fisica contestava appunto il paradigma aristotelico e le qualità primarie riguardavano la forma, il movimento, il numero, appartenevano al mondo della fiusis, al mondo della natura, al mondo fisico, mentre erano oggettive le qualità secondarie, invece erano quelle qualità che appartenevano alla mente umana, cioè al mondo non fisico e quindi di conseguenza erano soggettive. Hobbes recupera la divisione fra oggettivo e soggettivo, per cui tutto ciò che noi qualifichiamo come proprietà dei corpi sono in realtà idee generate, causate dalla nostra percezione, che è, ribadiamo, un movimento, un processo puramente fisico. Ora, le vere caratteristiche dei corpi sono quelle che possono essere rese in maniera matematica o geometrica e quindi devono cadere sotto, possono essere analizzate attraverso la forma, il peso, la velocità, la costanza e così via. Il ricordo stesso non è altro che un effetto dell'esperienza del movimento interiore dell'anima nel processo di conoscenza di questi fenomeni e che diviene via via più sbadito per una sorta però di processo fisico, cioè una specie di legge dinamica, una specie di principio di inerzia e Hobbes su questo è rigorosissimo. Il corpo umano poi tende a muoversi verso ciò che gli procura piacere e si allontana da quello che gli causa dispiacere. Non c'è quindi un processo di scelta, ma anche qui l'effetto di una legge dinamica che può essere espressa in modo matematico-geometrico come la caduta dei gravi. Anche la volontà per Hobbes non è una facoltà a sé, ma è semplicemente un altro processo dinamico che si innesca quando ci troviamo a dover scegliere fra due piaceri o tra due dolori che si escludono a vicenda. In questo caso ne scegliamo uno dei due, sicuramente la scelta più razionale sarà verso quella l'oggetto che riteniamo alla luce delle nostre precedenti esperienze che ci procuri il maggiore piacere. Ora, su questa base Hobbes fornisce anche una spiegazione molto semplice e precisa della morale, del buono e del male. Buono è ciò che ci provoca piacere, cattivo è tutto ciò che ce lo impedisce, tutti gli ostacoli che ci impediscono di raggiungere il suo piacere. Quanto a livello arbitrio, questo è per Hobbes addirittura un falso problema. Se con questo concetto si intende che una persona possa scegliere qualcosa di diverso da quello che ha effettivamente scelto, è semplicemente un assurdo, così come ritenere che gli esseri umani possano in qualche maniera controllare i propri desideri. Io posso decidere in questo momento di alzare questo braccio, in questo modo sono libero, oppure di spengere il cellulare e far terminare per il vostro bene questa lezione, ma di base siamo all'interno appunto di un come dire, di un assurdo logico. L'essere umano non può controllare i propri piaceri e il libero arbitrio quindi è un falso problema perché anche perché non possiamo decidere se avere fame o se avere sete. Ma OBS nega la libertà? No, non stiamo dicendo questo. Per OBS la libertà ovviamente esiste, ma anche questa è, riparisce secondo me il metodo matematico-geometrico, è una legge dinamica e cioè un moto è libero quando non incontra ostacoli e non è libero quando viene bloccato da essi ostacoli. Da questo punto di vista l'uomo non è diverso monismo determinista di OBS, l'uomo non è diverso da qualsiasi altro corpo e non ha maggiore facoltà di scelta rispetto a un terremoto, a un vulcano o una valanga. La stessa felicità è ancora come dire all'interno una legge dinamica, una legge di movimento dei corpi cioè il raggiungimento di un obiettivo. Tu sei felice questa è una riflessione molto interessante e ci sembra che la lucidità di OBS l'abbia centrato in pieno il problema tu sei felice quando raggiungi l'obiettivo e sei felice quando non riesci a raggiungerlo. Ma per questo motivo non esiste né può esistere una felicità perenne solo i beati del paradiso solo quelli che sono nel nirvana per gli orientali possono raggiungere la beatitudine invece qui sulla terra una persona che volesse essere sempre felice è come una persona che volesse raggiungere l'orizzonte per quanto sforzi faccia l'orizzonte per quanti come dire quanto si mette in cammino e quanti sforzi faccia l'orizzonte apparirà sempre di fronte a noi e sempre irraggiungibile. Ci fermiamo qua grazie alla vostra attenzione il prossimo contributo di video riguarderà lo stato di natura in OBS passiamo a poco a poco alla politica e alle teorie di contratto noi vi salutiamo vi diamo appuntamento a questo altro contributo video che faremo a breve grazie per la vostra attenzione iscrivetevi al canale lasciate un like azionate la campanella per non perdere mai i contenuti di questo canale youtube che non si occupa solo di filosofia ma si occuperà ben presto anche di storia ma si occupa anche di critica cinematografica critica letteraria dove appunto andremo a breve a parlare a discorrere a discutere insieme discuteremo insieme qua su questo su questo canale appunto i libri che abbiamo letto quest'estate non libri solo di cinema ovviamente non libri solo di filosofia ma è niente e a breve ripeto partiremo anche con le lezioni di storia partendo dall'impero romano adesso stiamo cercando di decidere quale testo su quale testo appoggiarci perché ovviamente l'onniscienza non ci appartiene queste lezioni sono da sempre l'abbiamo detto già abbiamo lasciato vari link però lo ripetiamo sono tratte e costruite sul secondo volume del manuale filosofia sapere e non sapere uscito nel 2010 per la casa editrice d'Anna Messina Firenze e quindi è compilato da Armando Massalenti Milano Di Marco collaborazione con la collaborazione di Maria Amelia Mannella le domande che hanno caratterizzato lo sviluppo del pensiero infatti questo bellissimo corso di filosofia è sviluppato ovviamente quello del libro è sviluppato appunto su una serie di domande che come dire sono importantissime la filosofia serve a farsi bene le domande a porsi bene le domande più che a trovare le risposte anzi non è una come dire è una disciplina che ha più a che fare con la domanda che con la risposta poi ognuno ovviamente l'importante è possedere i dati poi l'opinione ognuno se la costruisce come 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 crede ma sono appunto le fonti i dati l'aspetto importante e saperli come diceva Umberto Eco rievocare nel momento più opportuno grazie di nuovo per la vostra attenzione e a vedere per il prossimo video ciao e grazie di nuovo grazie di nuovo Grazie a tutti.